Benvenuti ragazzi al canale della Tana de Nerd, sono Claudio e oggi iniziamo questa nuova serie, speriamo che vi piace, di Two Point Hospital. Lo sto giocando sulla play, quindi vediamo tutto insieme come funziona. Allora. Allora. Allora, iniziamo. Benvenuto nella conchera di Two Point, sono Albert Crank, sarò il tuo fidato consulente in questo viaggio. Vediamo che cosa dici. Questa è Augsport ed ecco il tuo primo ospedale. Selezionalo e premi X per cominciare. Ah, hai iniziato la tua carriera di direttore sanitario, impara le basi del mestiere del tuo primo ospedale. Va bene, dai, lo vediamo insieme. Allora, benvenuto nella conchera di Two Point, sei pronto a costruire il tuo primo ospedale? Per prima cosa, magari, vuoi dare un'occhiata in giro per esplorare l'ospedale? Usa L per una panoramica, lo zoom R2L2 e ruota con R. La prima cosa di cui hai bisogno l'ospedale è l'accezzazione. Vabbè, logico. Aspettate. Ma mettiamolo qua tanto. Poi, assumiamo i primi assistenti. Una memoria... Ecco qua, mette da qua. Prima di aprire ufficialmente ci serve l'ufficio di medico di base. I pazienti vedranno il medico di base in ogni fase... Il ba... Il medico di base, quindi in ogni fase diagnostica il medico di base visita il paziente e decide se sono pronti per la terapia se hanno bisogno di ulteriori esami. Va bene, facciamo sta... di più... Il medico di base. Il medico di base! Se ci riesco a prendere la proposta... E' sempre per il medico di base! Il medico di base. E' sempre per il medico di base! Il medico di base. È sempre per l'esercizio. E' sempre per il medico di base. un bell'armadio allora noi prendiamo il medico quindi assume dobbiamo prendere il medico ecco l'asperale aperto vediamo un po cosa succede eccola il nostro primo paziente ecco ecco Grazie a tutti. Abbiamo bisogno di cambiare un messaggio. Una farmacia dobbiamo prendere. Allora, la distanza, la farmacia. Allora, la farmacia. È una farmacia che fa. dobbiamo smettere di... allora, scadario... allora, noi riprendiamo... no questo è più bello, com'è il treno? no 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 insomma ecco qua Sì 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 Bene! I've started exploring past lives. I've tried hypnotizing myself with pendulums and pocket watches, but I find listening to my own voice works best. I say one thing, and then another thing. And I say one thing, and then another thing. If possible you are now hypnotized too. Allora, assumi... Poi un serbiente sarà... No. No. Well, it's just a bit of a moment. No. Grazie a tutti. 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 Allora... 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 Assumiamo... Un bel medico... Allora... 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 Scusa ma il reparto no? Aspetta, aspettate un attimo che qua non ci sto peccando niente io voglio capire perché non posso ma ho capito però scusa ma 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 Ah 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 Incarga Ah Attention Urinating Anywhere in the hospital Will not be tolerated It Ok Well Yes No Less è stisa, d'accordo? Eccoli! Eh, perché sennò non li trovavo, diciamo, ma come... Ecco, trade, e snack con Morselman! Awesome! Chi ti troverai? Little Susie Salt? Bacon Dad? The Reverend Cheddar? Can I get an Amen? Amen! Morselman! A handful of flavor, a mouthful of fun! More Two Point, more often. This is Two Point Radio. Come on, come on, come on. si la so che ho fatto già la copia stiamo andando un po' più veloci così vediamo un po' come la situazione ma alcuni non stanno facendo niente e che voglio se non stanno a fare niente che colpa mia fire in the hospital thought you ought to know dai su, via sto destinto vuole su molla giustano La terapia dice che bisogna rilassare più, trovare un hobby. Se avete alcune suggestioni, lo sentite. Ti guardo sulla scuola. Qualcuno è meglio che il mio ultimo hobby. Collegare coni di traffico. Nurse, per favore, vai alla farmacia. Allora... Ho visto che l'ha usato. Allora, adesso stiamo a finiii... Eh... Seguore. Il problema è che non è la storia. Cosa che vuole online mi piaceva? Ma cosa che invece è, non c'è. Ma cosa passa? Non c'è un guямo. Non c'è un gioco. Non c'è un gioco sapere. Non c'è per favore. Allora, questa qui è? Allora, questa è la prima. manda raccogli seleziona modifica eh vedi almeno questi fanno solo questo qua adesso ne devo chiedere uno uno solo per certo che questo non è facile perché non mi ricordo tante cose non mi ricordo sinceramente vale fai pausa licenziamo subito così questo va solo qua i medici inserviente che facciamo arrivare tutto la stanza minchia che sta cagando addosso ma chi è questo minchia pure in pausa se dovrà cagare che cazzo del gioco è una buzzetta fatto non ho parole va bene ragazzi dai per il momento salviamo se ci facciamo salvataggio rapido riprenderemo di più in là un secondo episodio spero vi sia piaciuto a parte quello che ha fatto la buzzetta e io che ancora mi devo un pochino imparare i comandi perché non conto di giocare con sti strategici gestionali sul computer non conto sulla play questo è un po più complicati i tasti speriamo che vi è piaciuto questa questa prima puntata di two point hospital spero che vi piace così prosegui comunque io proseguirò a portare altre puntate perché voglio voglio cercare di giocare 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 più possibile questo gioco per oggi è tutto ci vediamo alla prossima buon gioco Grazie a tutti.